numero 5 kit di 6 oli essenziali di diverse fragranze lavanda eucalipto citronella menta titri e arancia sono oli essenziali per aromaterapia di altissima qualità naturali e puri questi oli essenziali sono ideali per diffusori massaggi spa ottimo prodotto per qualità prezzo acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 4 l'olio essenziale di cannella porterà benessere alla tua mente al tuo corpo e alla tua casa questo olio è perfetto per ogni occasione ideale per profumare armadi o bagni o per gli umidificatori ottimo prodotto per qualità prezzo numero 3 cofanetto composto da sei differenti aromi con fragranze naturali e rilassanti tetri limone arancio vaniglia menta lavanda sono oli naturali al 100 per cento estratti dalle piante aromatiche gli oli essenziali hanno proprietà benefiche scientificamente dimostrate balsamiche antisettiche antibatteriche antivirali antinfettive antidolorifiche rilassanti antistress gli oli essenziali si possono diffondere tramite i diffusori applicare direttamente sulla pelle mettere nelle vaschette dei termosifoni di tutta la casa o negli umidificatori in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 2 set di 20 oli essenziali tra cui olio di menta piperita di agrumi cedro salvia citronella tè eucalipto cipresso bergamotto olio di lavanda di arancia dolce di limone di cannella di incenso pompelmo gelsomino rosmarino chiodi di garofano camomilla olio di ylang ylang gli oli sono puri e naturali al 100 per cento senza additivi chimici o aromi nocivi tutti i gusti sono derivati dal gusto della pianta stessa gli oli essenziali sono adatti per aromaterapia massaggi spa adatti a tutti gli umidificatori numero 1 kit di 16 oli essenziali da 10 millilitri diverse fragranze alla lavanda eucalipto limone rosmarino titri menta cannella bergamotto incenso citronella pompelmo peciuli chiodo di garofano pino mandarino e arancio questi oli favoriscono l'ottimismo l'armonia l'energia e la concentrazione questi oli essenziali sono di altissima qualità perfetti per la casa l'ufficio l'auto spa e molto altro trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione è è Grazie a tutti.